Sicuramente il pubblico di Agnone ci ha dato una grossa mano, finalmente abbiamo giocato qui, io non ci ho mai giocato perché sono arrivato a dicembre, veramente c'era una bellissima atmosfera e diciamo che ha portato bene. Io penso che il Forlì è un'ottima squadra, almeno nei nomi, poi sicuramente la classifica che hanno vuol dire che hanno anche i loro problemi, però molti giocatori li conosco e so che sono un'ottima squadra, se oggi abbiamo vinto e sicuramente l'abbiamo meritato vuol dire che anche noi lo siamo e finalmente diciamo che la classifica si è anche accorciata, possiamo guardare avanti con ottimismo. Penso che è un campionato alla fine molto equilibrato, a parte forse le prime due, Cesena e Matelica, abbiamo dimostrato anche col Pinedo di andare a vincere lì, quindi vuol dire che è un campionato abbastanza equilibrato. Ce la giocheremo con tutte, mancano ancora, non so, dieci partite mi sembra, ci sono ancora tanti punti in ballo e cercheremo di uscire nel prima possibile. Sicuramente difendiamo in undici, quindi è ovvio che qualcosina lasciamo nella fase offensiva, però io penso che le vittorie bisogna costruirle dal basso, iniziando a non soffrire tanto nella fase difensiva, poi come abbiamo visto oggi i gol prima o poi arrivano.